Domenica 31 gennaio 2021, sono le ore 13, in questo video sono in due autogrill modenesi per documentare la situazione durante l'orario di pranzo. L'idea di questo video è nata dopo aver letto su Facebook alcuni post sui ristoranti self-service degli autogrill pieni di gente, anche in zona arancione, per aggirare i divieti. A parte alcuni tavoli occupati da persone dentro ai ristoranti per motivi di viaggio, la maggior parte dei tavoli di domenica a orario di pranzo sono vuoti e non si vedono tavolate e gruppi di persone. Una situazione molto diversa da come si racconta sui social e come si può vedere anche in queste immagini.